Salif, avete pareggiato questa partita e rimonta, il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto perché magari vincendo potevate staccarvi dalle altre squadre di bassa classifica? Sì, sicuramente, magari vincendo con tre punti era un altro discorso, però noi siamo più contenti di questo, anche del punto meritato contro una grande squadra che è Novana, adesso siamo più che soddisfatti. Allora, i cambi hanno dato un nuovo impulso alla squadra, il tuo ingresso in campo è quello di Riccardo Maniero, pensi che magari i tuoi compagni hanno pagato un po' di stanchezza per il Tour de Force, tutte le partite attaccate oppure pensi che il Novara vi abbia imbrigliato a centro campo? Comunque, va bene, il Novara è una grande squadra, abbiamo sofferto, un po' anche loro hanno sofferto, però noi siamo stati anche bravi come si è sempre fatto, ho cercato di reagire, magari dopo il gol che abbiamo preso, di pareggiare la partita e di comunque cercare di dare il massimo sempre con ogni partita e cercare di fare tutto il possibile e poi di stare un po' più tranquillo. La domanda è doverosa, come stai dal punto di vista fisico? Ti senti meglio dopo il ritorno dalla Coppa d'Africa? Sì, praticamente sono stato un mese fermo, sto bene adesso, sto bene, sto riprendendo, sono più che soddisfatto.